Musica Trovate la posizione del contenitore di biorischio. Musica Da impatto. Contenitore di biorischio trovato. Inserimento tra dieci secondi. Inserimento tra cinque secondi. Raggiungete il contenitore di biorischio e difendetelo. Musica 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 Cambio caricatore! Musica 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 un operatore alleato rimasto difensori eliminati missione d'attacco riuscita difendete la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio nuovo caricatore il nemico ha individuato il contenitore di biorischio rimangono 10 secondi rimforzato il contenitore di biorischio imboscata pronta state alla larga edd attivo state alla larga cambio caricatore pensate al nemico resta solo un operatore alleato missione fallita difensori uccisi il contenitore di biorischio il contenitore di biorischio il contenitore di biorischio localizzato inserimento tra 10 secondi 5 secondi 5 secondi contenitore di biorischio individuato raggiungetelo grazie il contenitore il contenitore la Cattivo libero. Cambio caricatore. Cattivo libero. Cattivo libero. Cattivo libero. Cattivo libero. Cattivo libero. Cattivo libero. Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio. Difendete la stanza. Ho rinforzato il muro. Cattivo libero. Cattivo libero. Il nemico sta per perlustrare l'area. Hanno rinforzato il nemico di prendere il contenitore di biorischio. Il nemico ha trovato il contenitore di biorischio. Caricatore vuoto. Cattivo libero. Hanno rinforzato il nemico di prendere il contenitore. difesa con il nemico di prendere il contenitore di biorischio. Difesa con il nemico. l'ultimo attaccante è rimasto in vita. 15 secondi. Mancano 10 secondi. Vittoria alla difesa. Nemici eliminati. Nemici eliminati. Trovate il contenitore di biorischio. Trovate il contenitore di biorischio. Pluello fuorizzato fino a 6 brand. Plettore denominavo. Sempre possiamo approc Principe di prendere il contenitore di biorischio. 10 secondi all'inserimento. 5 secondi all'inserimento. Raggiungete la posizione dei contenitori di più rischio. Il tron è pronto! Il tron è pronto! Il tron è pronto per il porto. All'ottosso! Cambio caricatore! Praticcio! C'è? C'è anche qui il correttatore. Siamo iniziando a una medico tende per treage. Se poteteichtigarsi con attenzione, viaggiarsi aiuto a la medico tende. Resta solo l'operatore d'attacco L'attaccante è stato eliminato L'attaccante è stato eliminato L'attaccante è stato eliminato Il muro è in sicurezza Siamo a 10 secondi L'attaccante è stato eliminato Cambio il caricatore Piazzo le tossine Resta solo l'operatore alleato Il nemico si sta impossessando del contenitore Sventate ulteriori accessi al contenitore Missione fallita Difensori neutralizzati